Come tu hai recuperato, c'erano due, uno è parchito proprio così E' arrivato così dall'esca Ma guardate l'ha fatto Non mi convince Io infatti a soft shad così Cioè a shad così E' spiombato Pesco tipo Lo innesco per la testa E poi lo lancio, lo lascio fermo e quello affonda lentissimo Quello non è cacciato E poi gli do qualche cercato ogni tanto Che sembra un pesce morente Io così Il flucca Sì però è molto più grande No 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 ma dico in generale Esiste ancora uno da tre? Sì io ho quello da quattro Mi sa In poter ce la fai arrivare Quello ha la cacciata e poi è sparito Quello sicuramente è quel pazzo psicopatico Guarda quanti ce ne stanno qui i ratteri Da quel pazzo psicopatico E' un addosso al tuo Poi si è inchiodato perché ho capito qual'era un'esca Piuttosto che in un latte Che devono venti in me Ma ci sono come pazzi Sembrano quasi carpe In mele sono bassi 17-18 Eccoli qua Oh non ci credo Sì Vai Cioè a galla questo Oh che boia Che magno da galla Fantastico E' qua sotto lo vedo Anch'io Porta la mare a copro Oggi comunque già Sì 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 Già è il secondo giorno Ok Mamma mia che mangiate Sì assurdo a galla Sì è un altro pescione Guarda c'è neanche la punta del lamo infilata Sì sì c'è proprio appena appoggiata Questi mangiano veramente male ragazzi Una cosa incredibile quanto mangiano male Vai e faccio un bene po' No no lascia la cosa Tanto sto dentro E tiri anche qui in orecchio un po' Arrivo Che becione Sì dai tanto Io credo sia Come gli altri Sembra Quella taglia lì 1.9 Sì per me è 1.9 Ha cacciato lì di nuovo Non ci credo Un altro Sì Muoio il tempo No 1.805 Bellissimo Sotto i due sotto i due Da frittura Ricordatelo Vai 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 Lascialo fermo Un attimo di frenesia Proveri che arriva qua Perché c'è il fatto l'alterino intorno Guarda vai Galla proprio da muro a prenderlo Ancora assurdo Impressionante Proveri di lui c'è il sito Porca vacca Non c'è il 14 mezzo Sì Non c'è il 14 mezzo Cammino Non c'è il 14 mezzo C'è la differenza avvissale Tu dici Non vedo una differenza Porca vacca Che vedo una differenza Tra un 14 e un 16 Assurda tantissimo Ma tantissimo 15 metri qua 15 metri qua 14,13,12 15 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 16 15 16 16 A me quello di ieri mi ha fatto morire a morire, quello che è venuto solo in mezzo ai sassi a prenderlo in quel moto Quello da 2,3 kg Porca puttana, non ho mai visto una roba del genere, guarda quanto pesce c'è là fuori, non posso messa il palo Prova un po' a tirà Sinistro, destra, scusa Però c'è uno a 21, guarda, c'è uno a 21, guarda, vieni, 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 mamma mia ragazzo Questo l'ho anche lasciato mangiare un filo, eh Ti sei anche fatto da concesso questo lusso Esatto, ho sentito il tico e ho detto aspetta una frazione di secondo Credo su con un missile proprio a mangiare Sto abbastanza basso perché non è tanto, è aggallato Intanto questi, guarda, tirano verso qua, molto su qua Sì, sì, sta sempre aggallato, guarda, non si muove da galla, non va proprio giù, è sempre aggallato Adesso stanno andando giù Ciò Adesso stanno andando giù Poi cava che è finito Era partito ai mille all'ora, cioè all'inizio non sembrava, poi è partito ai mille all'ora Guarda, non è piccolo ma anche questo, questo è la sabonina Eccolo, guarda, occhi che ti riparte dall'altra parte Mh, è la sotto No, non va giù Mamma mia guarda quanto, ti aspetta, ti aspetta, ti aspetta, ti aspetta, ti aspetta Oddio, ma basta Eeeh, di cosa Mamma, che bello Questo è lungo Sì Non so quanto sia tipposo ma è lungo è più magro però è lungo, guarda quanto è lungo porca boia, che pesce, direi che ci ha lavorato come una bestia mamma mia ragazzi sempre pure oggi una quotina eh, una quota fatta abbondante di pescini questo mi daresti le pinze che... allora guarda io ce l'ho un microbe, devono essere qui da un lato o di qua o di qua ce l'ho sotto le calzedive a non solo lunghe neanche come sapere che ci può tagliare praticamente il filo al massimo tira fuori le scatole, sono qui da qualche parte qua, quelle? ah la facciamo qua quello che ci facevi, quelle puoi continuare? arrivo ok eh questa è una bella bestiola lunga proprio, non è una panciona però perferrato metterlo direttamente Sì, se avesse avuto la pancia degli altri sarebbe stato un pesce... Dovino a indovinello? 1,950. 1,870. Questo ho forato da poco, eh. Pure? Sì, c'ha qua un bel buco che non è il mio. No, questo è tra... 1,965, tra due e qualcosa, 1,965 si è fermato. Penso che sia il più grosso di oggi, o no? No, forse il primo era 1,980. Non mi ricordo, ma... Comunque... Sì, comunque... Per un po' di 10 kg pure passa... Ieri li ha svalicati di brutto. Sì, sì. Ieri li ha fatto una quota da vittoria alle gare, eh. E poi con la pressione che ci sta a questi giorni... Quasi come vince una gara, ragazzi. Che comunque... È tosta, eh? Ma questo ha detto Stefano Togliani, Stefania. Io ho detto che ieri ha giappato quel pesce in mezzo al... Al cosa spybait. Che aspettavo la spybait, ero non pescato... Ma secondo me che ci sarà dove c'è sempre. Infatti a propria non lo mangiavano la spybait. Ah che... Grazie a tutti.